Ciao Oh buonasera dottore, buonasera Buonasera, buonasera E fa bene perché tutti dovrebbero fare questa cosa Quando verrai Io ho un impegno di un paio d'ore dalle 21 alle 23 Non parlare se lì c'è lei Lascia parlare me Di sì o no Mi si arrabbia la Musiani Sì 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 dottore Ho detrunto due ore di impegno dottore Non so dire nelle 23 30 Ovvio Sì sì certo Promesse dottore Certamente, certamente, certamente dottore Sicuramente sì No, 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 non credo proprio dottore No, 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 no Ma lei adesso dov'è vicino a te Appunto, appunto, appunto Eh sì, eh sì, mica no Ho sciolto tutti i capelli giù Molto bene E ho il profumo che mi hai dato tu Eh, eh, ha fatto bene, ha fatto bene dottore Sono cose belle Ma vieni almeno per un po' Tra due ore Non lo so, non mi sveglierai Le mando fa finito dottore Quello che vuoi però Stasera non dirmi no Ma sicuramente sì che non le dico di no Adesso chiudo, non vorrei È più che altro perché inizio la diretta Pare insospettire Sì sì, c'è qua che mi dice di mettere qui Ma no, ma non avete taciuto di fuoco Allora a bordo del cielo Ma no, dottore Arrivo, arrivo Faccio il prima possibile Mi creda Alle 23 finiscono la diretta E volo da lei Ok? Dottore 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 Dottore